Nooo! L'hai fatto! L'hai fatto! Salve ragazzi, oggi! Valerio, che faremo? Schifo! E come sempre, yeah! Allora, oggi faremo una cosa molto popolare in America Quindi non la copiamo per prenderci più visualizzazioni, no? Che vergogna! Guarda questa cosa! Riusci a capire che stiamo vivendo ora! Allora, abbiamo riempito queste cose di tutte cose diverse Questo qua di olio, questo qua di colla, questo qua di Dixon, bla 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 Qua abbiamo delle forbici Taglieremo i palloncini e faremo casino Wow! Però prima di iniziare questo video fantastico Vogliamo 200 likes Quindi dai tutti giù, mettete like, iscrivetevi al canale Se non ce ne fai iscritti Vabbè No, no, ho visto però, hai detto non lo facevi sul mio letto Lo devi fare dentro, hai rotto il c***o Che farei dentro? Ma così non è divertente Eh, sti cazzi No, hai rotto il c***o Abbiamo scoperto solo un palloncino E già questa è la situazione, guardate per terra, perfetto L'ultima cosa è l'ingrediente occhio dai Vai Non mi piace più sto gioco Vai, mi hai rotto il c***o Guarda le bolle! Ok, ragazzi Penultimo ingrediente è il vixan Cioè quello che farà funzionare tutto 3, 2, 1, dai No! Ecco, lo sapevo È divertente morire col cane È la cosa più bella al mondo, è la cosa più bella al mondo Ragazzi, guardate Non sta venendo da lì Che vergogna, raga Però guardate Che bello Guarda, 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 guarda che un c***o Guarda che schifo Oh mio Sembra un cane Ok ragazzi Lo slime sta venendo Però Prima di finire qua in mano Ho L'ingrediente segreto Potete vedere ci sta un punto interrogativo Voi dovete farmi un favore Andate nei commenti e scrivete Secondo voi Che ingrediente c'è qua dentro Chi indovinerà Lo saluteremo nel prossimo video Vado Ciao Mio padre L'aria E ecco a voi Come fare lo slime Che non è slime Però slime Però slime, slime, slime Fatto in casa Se questo video vi è piaciuto Arriviamo a 200 like 1000 visualizzazioni per favore Non so perché non abbiamo La smetti Dobbiamo fare l'altro Se questo video vi è piaciuto Arriviamo a 200 like Per un prossimo video Con lo slime Con Dani E con sua madre E quindi Con Dani No con Dani no Che schifo